Ducarà e Frediani i primi rinforzi con una certezza e una trattativa ormai avanzata. La certezza arriva dalla prima punta a Sulimane Ducarà sicuramente attaccante rosso-nero con l'ufficialità ormai prossima. Classe 91 Ducarà è un calciatore francese attaccante della Juve Stabia in prestito dal Catania. Possiede anche la nazionalità senegalese. Quest'anno 20 presenze, 6 gol con le vespe, retrocesse in dopo una stagione però disastrosa. Classe 91 dopo i primi passi tra i professionisti e nelle giovanili del Milan. Nel 2012 è passato al Catania in Serie A, debuttando in massima serie il 16 settembre nella partita persa per 2-0 in trasferta contro la Fiorentina. Il 2 settembre 2013, durante l'ultima giornata di calciomercato, viene annunciato il suo passaggio in prestito alla Juve Stabia. Veloce, bravo nel dribbling, nel cross dalla fascia, fisico possente che gli permette di vincere i contrasti aerei con gli avversari. Potrebbe essere l'uomo giusto per la Virtus. La società campana ha fatto di tutto pur di mantenerlo tra le proprie fila, ma Ducarà non vuole scendere di categoria. Con Lanciano e il Catania, a fare fatto col pieno gradimento di Ducarà, chiamato alla stagione del riscatto. Domani o tra qualche giorno arriverà l'ufficialità per il primo nuovo rinforzo della Virtus. Si stringono i tempi anche per Marco Frediani, classe 94, che si è messo in mostra l'anno scorso con la Roma di Rudy Garcia e poi girato all'Aquila con ottimo profitto. La Roma vuole farlo crescere. La Virtus è la piazza ideale. Luca Leone a Milano in settimana, altre novità sul Tacuino. L'altro nome nuovo è Namadi Udu Madi del Milan, in prestito al Brescia e al Varese, conteso da Crotone e proprio dalla Virtus Lanciano.